I carabinieri di Quarrata in provincia di Pistoia hanno denunciato una 42enne cittadina cinese ma residente a Quarrata dove è titolare di un esercizio commerciale al cui interno, a seguito di un controllo, i militari hanno trovato diversi prodotti in vendita scaduti di validità. Tra questi anche 12 confezioni di preservativi doppiamente scaduti perché sulle scatole era stata posta un'etichetta posticcia con una nuova data di scadenza che era anch'essa già scaduta. La merce, 113 deodoranti spray di varie marche scaduti nel 2018, 11 confezioni di salviette igienizzanti scadute nel 2001 e le 12 confezioni di preservativi scaduti nel 2013 con etichetta posticcia di scadenza 2018 è stata posta sotto sequestro. I militari sono intervenuti nell'ambito di una serie di controlli finalizzati a verificare la regolarità nella vendita dei prodotti all'interno degli esercizi commerciali, controlli che, informano i carabinieri, proseguiranno anche nei prossimi giorni.